Dottoressa Montaresi, oggi si inaugura Calata Paita, questa nuova area da destinare alla fruizione anche da parte dei cittadini. È la dimostrazione che cambia il rapporto porto città. Sì, oggi è una giornata molto importante per noi, per l'autorità portuale, per tutta la città della Spezia. È una giornata dove oggi la città recupera dei nuovi spazi, degli spazi che fino a ieri praticamente all'altro giorno erano completamente occupati da attività commerciali e oggi vengono completamente restituiti a una fruizione urbana, a una fruizione turistica. Quindi i cittadini potranno avere un altro pezzo di affaccio sul mare che fino a ieri non avevano. Quindi da qua poi lo vedrete, dopo si vede proprio, c'è una nuova visione proprio del Golfo della Spezia, una nuova parte di città che completamente riacquista uno spazio importante ed è una giornata secondo noi dove si comincia da oggi a costruire una nuova storia, una nuova storia nel rapporto tra porto e città. Quella di oggi è un po' il primo passo di una trasformazione che interesserà nei prossimi anni il porto e la città. Quindi in questo rapporto stretto, in questa sinergia stretta che c'è anche tra l'autorità portuale, la regione e il comune, si sta costruendo una grossa trasformazione della città della Spezia, che è una città portuale, una città sul mare, è una città con il mare e per il mare. E oggi questo lo dimostra, cioè dimostra che oggi siamo in un'area che è il primo assaggio di waterfront perché un domani tutta questa parte qua sarà completamente dedicata alla città, quindi sarà completamente fruibile dai cittadini, dai turisti e delle funzioni che sono funzioni appunto prettamente urbane. Qui alle nostre spalle le strutture che ospiteranno le attività pub, ristorazione. C'è stato un bando, ci può dire qualcosa del suo esito? Allora sì, c'è stato un bando, abbiamo ricevuto un'offerta, siamo come autorità portuale in corso di definizione del procedimento, quindi c'è un procedimento in corso per la valutazione dell'offerta e poi dopo per arrivare poi a eventuale aggiudicazione, quindi è questione solo di giorni e poi avremo poi anche un gestore dell'area di tutte queste strutture in modo appunto da dare anche una gestione unitaria di questi chioschi, di questi piccoli locali per la ristorazione, lo street food, il bar, ma anche locali dove ci sarà una vendita al dettaglio di prodotti, di oggettistica, quindi c'è tutta un'area che viene proprio messa a disposizione con tutte le sue funzioni che sono necessarie. Abbiamo parlato di città, di cittadini, ma qui si rivolge anche ai turisti, penso alle crociere. Come sta andando la stagione? La stagione sta andando benissimo, nel senso che quest'anno con i numeri che stiamo registrando molto probabilmente arriviamo a fare il record assoluto di crociaristi, superando quindi anche i numeri che abbiamo già fatto ottimi nel 2019, supereremo i 700.000 passeggeri e quindi siamo molto contenti perché abbiamo anche qui il progetto del nuovo molo crociere con il nuovo terminal.